Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato un 36enne di Battipaglia per il reato di possesso di documento di identificazione falso. I poliziotti, su segnalazione della sala operativa, si sono recati in un hotel in via Rossarolli a Napoli per notificare ad una persona lì alloggiata il divieto di ritorno al comune di Salerno e un avviso orale, entrambi emessi dal questore di Salerno lo scorso 30 luglio. In occasione della notifica dell'atto, gli agenti hanno notato che la carta di identità presentata dal 36enne era palesemente falsa, anche se i dati riportati e la foto corrispondevano all'uomo. Il 36enne ha spiegato che non poteva recarsi al suo comune di residenza per avere la carta di identità e quindi, dopo aver comprato un documento falso nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno, l'aveva prodotta da solo. L'uomo è stato arrestato e a seguito della celebrazione del rito per direttissima è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione.